Ragazzi è sabato, il che vuol dire solo ed unicamente una cosa, commenti. Ti seguo con piacere e ho anche imparato diverse cose grazie a te e allo studio dietro i tuoi video, grazie. Però ciao visualizzazioni, forse lo sostituirei con ciao amici, non saprei comunque non toglie nulla i tuoi contenuti. Allora, quanti secondi siamo di video? Un record questo qui. Ragazzi vi ricordate il video che ho fatto su Giallo Zafferano, che tra l'altro è anche piaciuto Giallo Zafferano, ma non ho tutti invitati. Ma vi ricordate che cosa vi ho detto quando ho visto che snaturavano tutte le ragazze che avevano le proprie frasi, le proprie catchphrase, queste cose qui, per farle diventare tutte quante un po' dei robottini? Ma non Giallo Zafferano, le persone sotto i video che si incazzavano e tutto quanto. Ecco, io non sono una ragazzina carina, fortunatamente sono un cazzo demone che sta qui a farvi perdere il sonno, quindi no. Perché dovrei cambiare il mio saluto che ha anche una storia dietro, tra l'altro? Una storia che probabilmente non ho mai raccontato e chissà quando racconterò. Perché devo cambiare un qualcosa al quale sono affezionato, che mi contraddistingue, perché non tu in particolare, ma qualche soggetto strano vuole vedere tutto quanto omologato? Che cazzo me ne frega a me? Vuoi vedere qualcuno che ti dice ciao amici perché così ti senti più incluso? Per carità lo so che vende di più dire ciao amici, non mi interessa. Non siamo amici, punto. È falso. Nel momento in cui mi vede di dire ragazzi ciao amici vuol dire che io mi sono venduto al demonio. Oppure mi hanno pagato molto bene. Speriamo alla seconda. I tuoi video lasciano l'amaro in bocca. È come bere acqua che non disseta. Ma è la stessa cosa che ti ha detto la tua ragazza perché in caso si spiegherebbero molte cose. Unisciti all'ordine della senape tenebrosa, altrimenti subirai conseguenze. Poi siamo i più fighi quindi non vedo perché non volersi unire a noi. Michele. Ciao Michele, come va? Tutto bene? Tutto bene a casa? Cosa, zia? Tutto a posto? Io non lo farò. Mai. Gematria inizia a fare le copertine softport per fare più visual. Mi sa che sbagliato miniatura non c'entra molto col video. Inizia. Vabbè, inizia. Comunque no, sì, c'entra col video. I primi tre commenti sono tutti quanti a tema a quello. Comunque sì, non sono io da averla cliccata. Bensì tu, amico mio. Hai fatto bene. Complimenti per questo video a chiappaclick. Complimenti, signor panettiere. Lei è il suo pane buono. Maledetto. A me fa sempre morire le risate, ragazzi, quando vedo qualcuno che arriva sotto un video e fa complimenti, eh, per questa cosa a chiappaclick, per questa cosa fatta apposta per farci cliccare la gente. Complimenti, eh, bravo, bravo. Ma sono io a dover fare complimenti a te, perché nonostante tu abbia messo dei video, sei riuscito a non farli vedere a nessuno. Bravo. Se qualcuno scrive qualcosa, dovresti avere l'umiltà di leggerlo. Oppure prendi medicine senza leggere il bugiardino. Eh, bevendo va. Sì, sì, io me le mangio tutte. Sì, sì. Anche qua, questa qui è una cosa che mi fa morire dalle risate, perché, ragazzi, a me fa morire la gente che scrive qualcosa, non se le incula a nessuno perché è scritto qualcosa di non interessante, che nessuno ha il piacere di leggere o che, perlomeno, io non ho il piacere di leggere, e si incazza perché nessuno se le figa neanche di pezze. E quindi a noi non abbiamo l'umiltà di ascoltare il grande messaggio che questa persona ci sta dando. L'umiltà. L'umiltà. Madre di Dio. No, ma è poco clickbait la copertina del video. E io sono d'accordo, avrei potuto fare ben di peggio, avrei potuto metterci una strappona, tutta quanta così, e non l'ho fatto. Vedi quanto sono... Eh? Ne ho messe tre. E di nuovo, chi è che ci ha cliccato su questi video? Io non penso proprio. Se ti lamenti perché sei tu che ti vergogni di cliccare dei video solo sulla base di quante zine ci sono sulla copertina e non sul contenuto, sul livello di cultura, che oddio, io sono una persona acculturatissima, come posso ridurmi a queste cose qui? Beh zio, probabilmente ti fai più intelligente di quello che sei e te la vivi male. Fai come me, io sono stupido. Non hai detto niente che non si sapesse già. Questo commento l'ho trovato sotto il video di words.com. E anche qui, pretendere che si tratti un argomento trattato e ritrattato con informazioni per forza nuove, perché assolutamente non si può fare una traduzione, non si può fare un video di informazione, assolutamente no. Poi sono gli stessi che si lamentano del fatto che in Italia, oh perché non si parla di questa cosa, perché non si parla di questo e quest'altro? Eh ragazzi, vi va bene che avete davanti me che me ne sbatto veramente i coglioni. Però non se ne parla appunto perché avete questo atteggiamento terribile nei confronti di chi importa le cose dall'estero. Appunto perché un sacco di persone hanno questa malata concezione che se qualcosa è stato già fatto una volta, allora basta. Però poi frignano perché non c'è content, capito? Non ho detto niente che non si avesse già, perfetto, allora la prossima volta mi invento di sana pianta una cosa, proprio così, ci metto i particolari così, me li invento io, così ti faccio contento. L'hai clasciato anche se non mi piaceva il tema trattato. Questa è la community, veri fan che poi guardano tutti i tuoi video, metti in testa che commenteranno sempre e a volte ti diranno anche cose che non ti piaceranno. Fa parte del gioco non essere sempre sul piede di battaglia, Cristo Santo! Non lo so ragazzi, cioè questa assolutamente non è una vera community, questo è semplicemente qualcuno che vuole sembrare più aperto mentalmente, immagino, o comunque più buono di quello che in realtà è. A me non è di nessuna utilità qualcuno che mette like a tutti i video, anche se non gli interessa, a me non gli interessa questa roba qua. È un dato falsato questa roba. Ragazzi io ve l'ho sempre detto, sempre ve lo ridirò. E anzi, fino a che c'erano i dislike su YouTube, io ci ho sempre tenuto a dire se non vi è piaciuto mettete un dislike. Adesso non li vedo più, quindi è inutile. Altrimenti se uno si va a vedere qualche mio vecchio video, ci ho sempre tenuto che la gente mi dicesse se questa cosa qua gli è piaciuto oppure no. Dire che la vera community è mettere like anche se la cosa non ti piace, no, quella è una stronzata. Se una cosa non ti piace non lo metti like, non vedi il video perché semplicemente è così. Quello che stai facendo non è vera community, vero sostegno, perché la ti posso pure dire grazie. Il punto è che mi stai facendo capire che mi stai facendo l'elemosina, che è diverso. È un peccato che nello scorso video hai disattivato i commenti. Avrei lasciato un commento. E appunto per questo li ho disattivati. Di che video stiamo parlando? Di quel video che ho messo qualche giorno fa, appunto, che commenti disattivati. Ragazzi, quel video lì è un video nel quale io non mi sono voluto incazzare di più. Semplicemente è un video nel quale ho voluto fare un discorso. Punto. E posso dire la verità, la cosa comica di quel video è che le stesse identiche persone che sotto video super editati mi sono venute a dire ah no, queste cose qui assolutamente, questo no, questo no, questo no, quel video lì se lo sono ciucciati tutti quanti. Ma come se non lo sapessi, capito? Come se fossero cose aliene che non so. È ovvio che lo so, che se metto un video del genere vanno tutti come dei piragna. Lo so benissimo. Ovvio, queste cose qui vanno super dosate, col conta gocce ci mancherebbe pure. Ma è stato bello vedere gli stessi sommelier dell'intrattenimento fiondarsi lì appunto come dei piragni affamati. Perché è così. Quando qualcuno ti dice assolutamente no, questa cosa non è un contenuto adatto alle mie capacità cognitive e perché di capacità cognitive non ne ha, semplicemente. E il contenuto adatto appunto è un video di merda. Non so se ci avete fatto caso, ma Gemma ti rindossa una maglietta di Pampling. Tu sei un grande, hai sgamato l'insgamabile. Ragazzi, ovviamente la trovate su Pampling. Qui sotto avete il mio link. Dovrei fare degli spot nuovi per Pampling effettivamente, ma se ne parlerà della settimana che viene. Comunque sì, avete anche il mio codice sconto Gematria. Tutto maiuscolo. E lo sto utilizzando in tantissimi al mese, ragazzi. Un qualcosa di spaventoso. Io vi ringrazio veramente tanto. Però effettivamente è una gran bella offerta e sono contento che vi piacciono. Mi dispiace ancora che Gemma abbia avuto un burnout ieri. Però torna sempre in carreggiata con delle chicche stupende. Mi fa piacere che sia così, ragazzi, per voi. Il punto è che dal punto di vista temporale non è così. Perché si parla sempre del video di worlds.com. Io quel video l'ho registrato prima. Il video che avete visto in cui stavo completamente distrutto. Perché? Perché, ragazzi, io le cose le registro prima. Infatti molto spesso succedono dei quiproquo e dopo poco ci arriviamo. Ma io non è che registro il video e sto lì a fare e l'evento è uscito il video. No, io le ho registrati a volte anche una settimana prima. Semplicemente perché faccio tanti video ed è così. Uno le cose se le deve organizzare. Quindi, no, non è che sono tornato. Lì ero in burnout. Solo che fingo molto bene. Io, ragazzi, vivo in burnout da qualcosa come 20 anni. Quindi so che qui sotto ci saranno tutti quanti super salutisti a dirmi No, dovresti fare di meno. Dovresti fare questo e quest'altro. Sì, ok, va bene. È bellissimo il mondo delle favole. Vallo a dire un operario in fabbrica che deve fare di meno. Guarda, il lavoro della youtuber è molto più simile a un lavoro da ufficio che altro. Tu mi vuoi dire che un lavoro da ufficio non va in burnout. Va in burnout gente che sta tutto il giorno davanti a Excel ma non ci vado io che sto qua a dover fare tutto sto circo. Ma secondo te? Il lavoro è il lavoro. Bisogna sempre cercare di mostrarsi al top. Di quello che succede nella sua intimità non frega un cazzo a nessuno. È un gran creatore di contenuti ma a volte si perde in stevara. È sgarbato come commento me ne rendo conto ma è anche molto vero. Io ragazzi purtroppo facendo un sacco di roba è capace molto spesso che finisco in burnout però per quanto mi stia sul cazzo questa cosa qui c'ha ragione. Ma infatti se vedete capita sempre più raramente che vi faccia vedere un qualcosa da questo punto di vista anche perché poi la gente se ne approfitta. Quindi ripeto per quanto possa essere sgarbato come commento non frega un cazzo a nessuno è anche vero. Gematria perché sotto alcuni tuoi video è ancora presente il link per il tuo shop? Non l'avevi chiuso? Sì però sono appunto video vecchi quindi nel senso mi sembra stupido mettermi a modificare tutti i link di oltre mille video con uno shop vecchio. Vediti i video nuovi tipo ah? Perché ci chiami visualizzazioni? penso di essere stato cristallino tutti i giudici tutti sono bravi a sventolare la lingua al vento e tutti che sanno che la lingua al vento dopo un po' si secca e peccato non cade far tantam sul tamburo con questa lingua è facile per tutti brutti o non brutti che siano i video di questa ragazza che al fio fior degli anni ha cercato solo di divertirsi mi dispiace per questo perché tutti siamo breve la critica lasciatela in pace e dico vergognatevi almeno lei si è resa conto che internet non è il paese dei balocchi ma il paese dei no comment sotto bosco ne nasconde di cose certe interessanti certe sconcertanti punto alcune punto discutibili ma da qui ad arrivare ai complottisti me ne voglia au revoir proprio scritto au revoir ok il set di pompling vabbè fare questi video è molto rischioso ma per fortuna è il nostro soccorso c'è pompling oddio madonna cosa porto come contenuto oggi cimbo guardo le idee di iris babilonia nelle sue storie e le rivendo per mie top creator allora a parte il fatto che se qualcuno ha dei dubbi posso far vedere se ce l'ho ancora i dati della macchinetta il fatto che io ho registrato prima di queste storie che tra l'altro ci sono stati tipo 4-5 giorni in cui io instagram non l'ho usato perché non me la sono passata bene però va bene tolto questo io non vorrei mai che iris babilonia bevesse anche lei dell'acqua perché in quel caso sarebbero veramente cazzi miei cioè nel senso ragazzi la fate litigare la gente così capito io la serie su che fino ha fatto x personaggio ce l'ho da praticamente un anno e non penso che qualcuno abbia il copyright su gemma del sud si spera cioè nel senso perché altrimenti là vuol dire che la stanno tipo mettendo sotto torchio però no io quel video l'ho registrato praticamente una settimana prima e boh cioè lo si può vedere anche semplicemente dal mio taglio di capelli però va bene c'erano anche degli altri commenti sotto questo qui che poi sono spariti nel nulla non so perché l'account proprio è sparito nel nulla ma raga non so che ripiatevi più di questo non posso dire perché in questo modo fate litigare la gente fate litigare dei creator che potrebbero anche creare qualcosa di bello assieme ma ci sono queste cose strane che poi io e Iris Babilonia abbiamo anche lavorato assieme per Cluedo quindi cioè che cazzo di senso avrebbe mettermici a litigare perché gli fotto le idee ma stiamo scherzando anzi cioè più video ci sono su uno stesso argomento meglio è anche perché poi siete voi stessi a chiederlo siete voi stessi a dire ah perché non fai questa cosa qui perché? perché ci sono queste teste di cazzo che vanno in giro a mettere zizzania tra la gente la creatività non è mettere zizzania tra la gente la creatività non è assolutamente questo e non esiste qualcuno che abbia il copyright su un tema quindi per favore per carità di Dio va bene i commenti di oggi penso che possano finire anche qui io vi ringrazio per essere stati qui anche oggi e vi rinnovo l'invito per favore ragazzi non fate incazzare la gente non fatela litigare senza motivo perché questi qui sono motivi stupidi che non servono a nessuno e no non ha senso anche perché cioè io adesso ci sto pure riflettendo no? a parte che non mi ricordo che abbia messo storie del genere però mettiamo caso va bene ok diamolo per certo diamolo per assodato ma io non penso che in una storia di Instagram ci fosse un intero copione e come vi ho fatto vedere io sono tornato con Weback to Noci indietro nel 2010 a ritrovare cose che nessuno praticamente ritrova quindi mettiamo caso puta caso proprio e non è così che io abbia preso ispirazione in una schedule che praticamente io c'ho il mese tutto quanto ho già fatto dai primi di luglio quindi c'è nel senso mettiamo anche caso che sia così ma tutto lo sviluppo del video tutto il lavoro dietro al video tutto ciò che è stato fatto il video in sé per sé l'ho fatto io l'ho fatto io cioè ci mancherebbe pure perché dovete sempre sminuire il lavoro della gente non capirò mai poi quando la gente vabbè è morta la videocamera ragazzi lasciamo perdere fine dei commenti ciao